H7 al Festival di Sanremo, Luca è stato per te un anno molto importante, un anno decisivo per il lancio della tua carriera. È arrivato anche il successo e adesso ti trovi sul palco dell'Ariston, ti ritroverai sul palco dell'Ariston, il palco più importante, il palco più imponente. Arrivi dalla scuola di Maria De Filippi, arrivi da un'estate che ti ha portato grandissimo successo. Allora a questo punto la prima riflessione che faccio, intanto raccontiamo che sei risultato positivo al Covid, adesso stai bene, ma la cosa più importante è che ti presenti a questo Festival di Sanremo. A questo Festival di Sanremo mi presento quanto più sereno possibile, perché l'intenzione mia è quella di divertirmi, essendo comunque la mia prima volta a Sanremo, per me sarà una delle più importanti. Tipo, è un palco stra prestigioso, è uno dei palchi più importanti d'Italia, se non al mondo, quindi l'intenzione è quella di andare lì, godermi tutto ed essere più sereno possibile. La canzone che porti al Festival di Sanremo si chiama Perfetta Così. Raccontaci la tua canzone, Luca. Perfetta Così è un brano che è nato in studio all'improvviso un mesetto dopo essere uscito da amici. E nasce in versione acustica, eravamo in studio, l'intenzione era quella di buttare giù due accordi, e nacque questo giro armonico con la chitarra. Dopodiché iniziai a scriverci su, la prima stesura fuori Tornello, che appunto prende il nome del titolo, e da lì poi è nata il pezzo acustico di Perfetta Così. Dopodiché abbiamo iniziato ad arrangiarla, è nata tutta la strumentale, e abbiamo deciso poi di mandarla. Siccome sentivo che istintivamente fosse il pezzo giusto per Sanremo, soprattutto per il messaggio, per il sound, abbiamo deciso poi di fare richiesta per Sanremo. È stato un anno particolare per te. Luca, ti chiedo la cortesia se puoi guardare in camera. Guarda, aspetta, guardo in camera. Guarda, guarda avanti. Ok, perfetto. È stato un anno particolare per te, lo abbiamo detto prima. Ti saresti mai aspettato tutto questo? No, sinceramente no, perché non sono una persona che ha molte aspettative, nel senso cerco di godermi la vita quanto più possibile e prendo i momenti in base a come vivo quotidianamente. Però è per me un piacere ed è, sono veramente rusingato che stia vivendo un anno così pieno e così importante. Ti sei raccontato a tantissimi altri colleghi, ho letto anche una tua bellissima intervista al Corriere della Sera, ed è molto bella questa tua rinascita che c'è stata. Ecco, vuoi raccontarci quello che ti è successo e poi come sei arrivata ad amare la musica e la musica è quello che oggi ti fa essere te stesso, no? Sì, la musica in realtà è proprio come se fosse una parte integrante della mia vita. Tutto parte proprio seguendo il discorso della rinascita a sette anni perché sono stato in coma per sette giorni e da lì comunque ho iniziato a, subito dopo essere uscito dal coma, ho iniziato ad interfacciarmi alla musica in modo un po' più, ecco, studiandolo probabilmente era quella l'intenzione, e ho iniziato a studiare pianoforte, ho iniziato a studiare di nuovo canto, ho studiato batteria per un anno, poi ho seguito il diploma, l'ho seguito l'anno scorso, però avevo iniziato la scuola, liceo musicale per studiare pianoforte e carinetto, e da lì poi è iniziata proprio tutta la questione di comunicazione vera e propria nella mia vita con la musica, era proprio, cioè la musica è come se fosse quasi una fede, ne ho proprio il bisogno quotidiano di alimentarmi di musica. Uno straordinario successo il tuo, diciamocela tutta, con la gente che ha iniziato a seguirti, che ti segue, e anche con le persone che cominciano a credere in te, no Luca? Come lo vivi? Come vedi questa situazione? Come la vedi? Ma in realtà sono super contento, cioè la mia fortuna è che da prima di amici ad oggi il mio modo di vivere non è minimamente cambiato, cioè mi circondo sempre delle stesse persone, a prescindere da quelle che lavorano con me, che comunque sono persone che conosco da un annetto quasi, no? Però cerco di circondarmi della stessa vita di cui ero abituato prima. Quindi in famiglia non è cambiato nulla? Assolutamente no, cioè la fortuna è proprio questa, che non è cambiato nulla, se non la famiglia è molto più unita di prima, perché comunque stiamo godendo di tutte le cose belle che ci stanno succedendo. Proprio il fatto che io continuo a vivere la mia vita come l'ho sempre vissuta mi rende sereno, perché so che mi circondano le stesse persone che c'erano prima, so che mi vogliono bene, so che voglio bene, che vivo proprio di pane quotidiano con la quale ho sempre vissuto. Sanremo è un palco importantissimo, l'abbiamo detto, non vorrei caricarti di ansia, tu sei molto giovane, ma ti scontrerai, tra virgolette, con mostri sacri della musica leggera italiana, ne cito alcuni, Massimo Ranieri, Iva Zenicchi, Elisa, Gianni Morandi, che hanno, oltre ad un'età anagrafica chiaramente importante rispetto alla tua, anche un bagaglio importante. Quanto ti fa paura questo? E cosa ti aspetti da questo festival? Ma in realtà non mi fa paura, perché voglio proprio godere del fatto che io possa essere lì presente su quel palco con artisti di un calibro enorme che ho sempre seguito fin da quando ero piccolo, quindi per me è un onore in primis, è una soddisfazione incredibile sapere di essere in quella lista lì con tutti quei nomi importanti. Però il mio Sanremo sarà appunto intenzionato nel divertimento, cioè nel senso che voglio andare lì, divertirmi, intrattenere il pubblico, l'intenzione è quella, non voglio pensare alla conseguenza, quello che sarà dopo, se dovessi vincere, se non dovessi vincere, perché essendo la mia prima volta comunque non mi va di avere aspettative, non sono una persona di mio proprio a livello di principio che ha aspettative, cerco di godermi tutto. La scuola di amici di Maria De Filippi, adesso arriverai sul palco dell'Ariston, inevitabilmente anche le tante visualizzazioni dei tuoi video e l'interazione con i tuoi follower su Instagram ti ha portato tanta popolarità. Ecco, come ci stai facendo i conti? Quando la gente ti incontra per strada e ti chiede l'autografo, ecco, come te la vivi? Come la senti questa popolarità? In realtà sono super felice perché sapere che mi conoscano ed apprezzino la mia musica, apprezzino la mia persona per me è una soddisfazione incredibile. Poi mi piace molto il contatto con i fan. Sicuramente il periodo non è ottimo per avere contatti veri e propri, però sono super disponibile e mi fa super piacere quando mi fermano. Poi ti ripeto, comunque il fatto che io viva la mia stessa vita di prima, con la cosa in più, cioè quella di essere conosciuto, nel senso mi rende comunque sereno e tranquillo. Al Festival di Sanremo, nella serata delle cover, Luca H7 porterà un pezzo storico del Festival di Sanremo che ricorda anche un po' un grande artista che purtroppo è venuto a mancare prestissimo. Sto parlando di Alex Baroni, tu porterai Cambiare. Il suo ricordo, peraltro, è ancora molto vivo, le sue canzoni sono ancora molto ascoltate. Duetterai con Arisa, il pezzo l'avete già provato. Che sensazioni hai provato con un brano così importante? Ecco, raccontaci un po'. Con lei ho una sinergia pazzesca, perché lei è un'anima pura ed ha una sensibilità tale da riuscire ad integrarsi bene con appunto il mio modo di esibirmi, con il mio modo di cantare, con il mio modo di percepire la musica e riesce ad entrare benissimo nel testo, nel sound. Poi comunque c'è un rapporto di base appunto, perché abbiamo lavorato insieme ad amici, ci conosciamo abbastanza bene e per me è un onore essere affiancato da lei. C'è un pezzo anche la storia della musica italiana, quindi sono super felice di condividere con lei il palco di Sanremo. Ultima domanda, cosa accadrà subito dopo Sanremo? Subito dopo Sanremo si torna a lavorare in studio cercando di capire come muoverci. Non abbiamo ancora strutturato bene il tutto, però comunque abbiamo varie opzioni.